Prima Linea, un programma che vede protagonisti uomini e donne impegnati tutti i giorni ad affrontare e risolvere i più svariati problemi, ma anche attenti a cogliere le opportunità, sfruttandole per il bene comune. Personaggi che ricoprono incarichi di responsabilità in ambito pubblico e privato. Uomini e donne in Prima Linea. Ogni giorno ci prepariamo per darvi un'informazione pulita, veloce e obiettiva. Ogni giorno è la passione che ci guida a svolgere il nostro lavoro. Ogni giorno l'unico pensiero che abbiamo è solo uno. Ogni giorno vogliamo starvi vicini per trasferirvi quello a cui teniamo di più. L'amore per un'informazione libera. Sassari TG Express Che giornalista è Antonio Di Rosa? Ma è uno che cerca sempre di scoprire qualcosa di nuovo, che è curioso, a cui piace indagare, a cui piace raccontare le storie di personaggi che magari non sono noti dal grande pubblico, ma che svolgono un ruolo sociale molto importante, che non fa sconti ai politici, perché i politici devono amministrare bene. Mi piace stare sempre dalla parte della gente, nel senso che un giornale secondo me non deve rincorrere le sirene della politica, ma deve invece essere molto rigoroso nel controllo di chi amministra la cosa pubblica e denunciare le cose che non funzionano. Questo è il ruolo del giornalista. Se guarda indietro, nella sua vita, nella sua carriera, c'è un errore del quale si è pentito? Sì, forse deve essere andato a dirigere la gazzetta dello sport, che è l'unica volta in cui mi sono occupato di sport in senso professionale, pur essendo molto competente, perché il mondo dello sport non è un mondo così free come si può pensare. È un mondo pieno di interessi, ci sono milioni, miliardi una volta con le lire che girano, interessi fortissimi, non si riesce bene a fare questo mestiere perché tutti ti valutano se tifi per una squadra o per l'altra. Io, pur essendo tifoso, simpatizzante della Juventus, quando ero alla gazzetta dello sport, se c'era una società che mi criticava tantissimo era la Juventus. Per me era un motivo di orgoglio, perché fare il giornalista non significa stare con qualcuno, significa raccontare le cose che vuoi raccontare. Con lo sport è più difficile, perché gli interessi, ripeto, sono elevatissimi e quindi intacchi delle cose che nessuno vuole che si intacchino. Io invece non ho dei debiti nei confronti di nessuno, e quindi credo che questo mestiere vada fatto in maniera molto libera. E lo sport, tra l'altro, non è libero come una volta. Una volta potevi entrare nello spogliatoio e intervistare chi ti pareva. Adesso ci sono i diritti di buono, non puoi fare niente. I giornali arrivano dopo tutte le televisioni, per cui ti danno un'inconferenza stappa ogni giorno. Non hai la possibilità di scegliere, perché se io oggi voglio intervistare Lopez, l'allenatore del Cagliari, e mi danno Padoini, il giocatore, cosa non me ne frega niente. Sono io che vorrei scegliere l'interlocutore. Non è più così, quindi non è divertente. Come si è avvicinato al giornalismo e perché? Ma guarda, io ho scoperto tra i tempi dell'Università Messina il mondo del giornalismo, ho cominciato a leggere Il Giorno. Il Giorno era fatto all'epoca da Baldacci, che è un giornalista siciliano, importante, che faceva un grandissimo giornale, ma Il Giorno aveva grandi giornalisti, cioè Gian Paolo Panza, Natalia Aspesi, Giorgio Bocca, Fausto De Luca, da persone di primo piano di questo mondo giornalistico, allora molto giovani. Ed era un giornale, tra l'altro, il primo a otto colonne, stampato in offset, quindi moderno, e mi piaceva molto il piglio che aveva, questo giornale dell'Eni, fondato dal suo presidente, che poi finì male, non si sa se in un incidente, o se fu Mattei, se fu una bomba sull'aereo, e quindi mi appassionai a questo mondo, cominciai a leggere anche il Corriere della Sera, la stampa, e il mio sogno era quello di diventare giornalista. Mi presentai a Messina, nelle pagine locali del giornale di Sicilia, e per un anno e mezzo, come abusivo, lavoravo lì, però ho imparato, ho imparato a fare questo mestiere, e devo tutto a chi mi ha ospitato, che è questo Giuseppe Messina, che era il titolare della redazione, poi andai in Calabria, dove dopo tre mesi di sostituzione di un collega in malattia mi assunsero, e da lì è cominciata, poi Torino, Gazzetta del Popolo e Stampa, poi Milano, il Corriere della Sera, alla fine anche come vice direttore, poi la direzione del secolo XIX, direzione della Gazzetta dello Sport, del gratuito City, e dell'agenzia di stampa alla pressa, e adesso la nuova Sardegna. Si ricorda il suo primo articolo? Sì, il mio primo articolo non era appassionante, perché era un convegno all'università, era la cosa più semplice che potessi fare, nel senso che ero in scienze politiche, iscritto, segnalai, per rompere il ghiaccio, questo convegno all'università, e il titolare, il capo della redazione, mi disse di farlo, e mi ricordo, mi attenni subito alle regole, dove, come, quando e perché, era infatti un po' ingessato, se vado a rivedere quell'articolo, come pezzo, però era giusto così, se uno deve imparare, nel cappello del pezzo, bisogna mettere tutte le notizie più importanti. che anno era? Che? Anno. Era il 1973, gennaio 73, avevo 22 anni. Quando è arrivato qui alla Nuova Sardegna, che redazione ha trovato? Parlo proprio di sensazioni. Guarda, non faccio complimenti, non dico una cosa per un'altra, per accattivarmi le simpatie, perché non ne ho bisogno, devo dire che è una redazione di medio-alto livello. Di solito si pensa che i grandi giornalisti, i bravi giornalisti, siano solo nei grandi giornali. Non è vero. In periferia, se vogliamo considerare la periferia un giornale regionale o un giornale cittadino, ci sono ottimi giornalisti, che non hanno il palcoscenico dei grandi, ma lavorano benissimo. E questa squadra che c'è alla Nuova Sardegna, lavora benissimo, fa tutto quello che io gli chiedo, comincia a interagire proponendo anche delle cose. Cosa vorrebbe portare di sé in questo giornale? Ah, guarda, io ci metto tutta l'esperienza e le conoscenze che ho, perché avendo lavorato in grandi giornali, conosco tutto il mondo politico, il mondo imprenditoriale, il mondo della cultura, per cui le interviste che facciamo spesso le facciamo anche grazie al mio aiuto, perché conosco alcuni ministri, conosco, e quindi è più facile avere accesso, perché come potete capire i giornali regionali non hanno la stessa forza e lo stesso impatto nei confronti dei grandi personaggi rispetto al Corriere della Sera, alla Repubblica, alla Stampa, o il sole 24 ore. Ma noi, il nostro piccolo, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, come ho detto ai giornalisti, si può intervistare chiunque, nulla è impossibile e loro ogni giorno lo fanno. Oltre alla sua professione, in tutti i settori della sua vita, cosa sa fare oggi che magari non sapeva fare cinque o dieci anni fa? Ma guarda, l'unico mestiere che so fare è questo in realtà, però questo mestiere mi ha consentito di allargare l'orizzonte, nel senso che occupandoti di cose diverse, conosci situazioni, problemi, questioni di cui prima non ti occupavi e eri molto distante. e quindi è un arricchimento. Arricchimento significa sapere anche prima degli altri alcune realtà, conoscerle e farle conoscere agli altri poi sul giornale il giorno dopo. Io lo trovo una cosa sconvolgente per me. Avere questa opportunità di raccontare agli altri le cose che scopro io e i miei colleghi, che scopriamo insieme, è una cosa che mi appassiona tutti i giorni. Non ho mai perso la passione che avevo il primo giorno, anzi è cresciuta sempre di più. Qual è stata la situazione più complicata che ha dovuto affrontare nella sua carriera? Il G8 a Genova, quando ero direttore del secolo XIX. Sono stati giorni terribili dove anche i giornalisti hanno rischiato la vita. Mi ricordo che il primo giorno quando fu ucciso Giuliani da questo giovane carabiniere io richiamai alle 6, alle 18 tutti i cronisti che c'erano in giro proprio sui fronti caldi perché una vita non vale la professione. Cioè la professione si deve fare e si può fare rischiando quello che si può rischiare senza andare oltre. E siccome per esempio avevo dei giovani cronisti sul campo uno di questi era abbastanza terrorizzato. L'ho sentito al telefono molto concitato e gli ho detto di rientrare. per fortuna poi la cosa si è calmata ma sono stati tre giorni non uno tre giorni veramente sembrava di essere in una zona di guerra. Io per accedere al giornale dovevo passare tre checkpoint e la città era blindata perché il secolo XIX è proprio al centro di Genova a due passi da Piazza dei Ferrari e quindi è stata l'esperienza e noi eravamo al centro di tutto perché essendo il giornale di Genova giornalisti stranieri televisione straniera tutti ci chiamavano e la sera dell'uccisione di Giuliani fumo i primi a far vedere la prima pagina dicendo che la vittima era italiana perché non si sapeva noi avevamo anche il nome ma siccome i genitori erano separati uno dei due non era stato informato io non lo diedi in diretta ma poi sul giornale c'era. E invece un fatto simpatico qualcosa che ricorda con più piacere? Ma quando incontrai Pertini mi ricordo che il vice direttore della Gazzetta del Popolo mi mandò a Imperia dove era in visita Pertini e scherzando mi disse se fossi bravo dovresti intervistare Pertini siccome Pertini era accessibile a tutti nel senso che lui era una scusate era una persona veramente disponibile io conoscevo il suo addetto stampa che era Jacopucci all'epoca e gli dissi se era possibile incontrarlo la mattina in prefettura lui mi ha detto vieni alle 7 io andai alle 7 del mattino ero convinto di non incontrare Pertini invece dopo un quarto d'ora mi disse vieni che ti riceve e allora avevo intervistato il Presidente della Repubblica in quelle condizioni dove in quel periodo c'era lo scandalo Petroli c'era un dossier Petroli su cui vigeva un segreto che Pertini voleva che si togliesse e quindi era in conflitto con Forlani che all'epoca era il Presidente del Consiglio e quindi portai a casa questa intervista dove lui ribadì questa opinione e fu una cosa molto piacevole il giornalista incontra persone un po' di tutti i tipi qual è la domanda o la curiosità che si sente più spesso porre dagli interlocutori a tutti naturalmente non c'è nei confronti dei giornalisti una grande disponibilità anzi i giornalisti sono una categoria un po' odiata dalla gente perché magari certe volte abbiamo pure noi ci abbiamo messo del nostro perché non facciamo bene il nostro lavoro perché diamo informazioni sbagliate oppure perché ci accaniamo su delle persone senza dare il diritto alla difesa che è fondamentale come dico io e i miei si registra l'accusa ma in contemporanea si deve dire si deve dare alla persona che è accusata l'opportunità di difendersi se lo fai il giorno dopo non vale più e allora tutti si chiedono come nasce il giornale come viene come si acquisiscono le notizie come arrivano le notizie io vi spiego che ci sono delle fonti di informazione ci sono quelle ufficiali tipo Carabinieri Questura Magistratura Avvocati e quelle non ufficiali che magari ogni giornalista ha nel suo bagaglio riceve una telefonata e gli viene suggerita una cosa oppure gli viene comunicata una notizia e da lì si lavora per costruire un articolo quanto e come la politica cerca di entrare e interferire nell'informazione la politica sempre cerca di interferire tutti i giorni dovunque ma io credo che dipenda da noi se il direttore è impermeabile a queste pressioni e l'editore non si fa influenzare o non ha come dire degli scheletri nell'armadio per cui è ricattabile puoi fare giornalismo tranquillamente senza temere alcuna pressione da parte di nessuno io non ho mai avuto paura di nessuno non devo rendere conto a nessuno sono figlio di un ferroviere che si è fatto da solo col mio lavoro devo ringraziare i colleghi che mi hanno dato fiducia nel corso degli anni non un politico né un imprenditore né nessun altro questa è l'unica garanzia che hai di non essere pressato oppure costretto a fare delle cose che non dovresti e non potresti fare ha parlato di editore e direttore che sono i vertici di un giornale quale consiglio si sente di dare su questo argomento ai colleghi più giovani invece che si trovano magari più a contatto con una figura di potere i giovani non devono farsi mai impressionare dall'interlocutore chiunque esso sia dal Presidente della Repubblica in giù perché se tu dimostri di avere paura non fai bene il tuo lavoro e l'altro ne approfitta per farti scrivere quello che vuole invece bisogna essere sereni ma sai un giornalista è sereno solo se il direttore ti garantisce innanzitutto protezione poi autonomia se tu difendi il lavoro dei tuoi giornalisti è difficile che uno si faccia impressionare dal mondo esterno sembrerebbe una cosa così semplice non è una roba semplice perché ci vuole carattere ci vuole coraggio ci vuole determinazione non tutti hanno questa questi imprinting però devono averlo perché non posso tollerare che uno mi passa mi fa un articolo solo perché gliel'ha chiesto come favore un politico un imprenditore o no questo non si deve fare e spero che nessuno mi faccia c'è una roba del genere dietro le spalle perché se lo scoprissi sarebbero guai quanto dell'uomo Antonio c'è nel direttore di Rosa e quanto il direttore ha cambiato l'uomo il direttore non ha mai cambiato l'uomo io mi sento fare un un complimento che questo si lo voglio dire che sono una persona normale io sono una persona normale perché nei rapporti umani con i colleghi con gli altri disponibilità non capisco perché uno debba cambiare ci sono tanti che cambiano atteggiamento se la diranno tantissimo non ricevono la gente non parlano con la gente io no per me questo è un regalo aver potuto fare questo lavoro aver avuto questa opportunità per cui per ringraziare quelli che ti hanno consentito di fare questo lavoro non puoi essere diverso è un servizio quello che fai e lo devi far bene se ti chiudi nel tuo ufficio nella tua torre e non comunichi con nessuno vieni meno alla regola fondamentale di chi fa il giornalista che deve conoscere la gente parlare con la gente solo così poi porti a casa la notizia io ogni volta che parlo con qualcuno viene sempre fuori qualcosa di curioso di interessante che merita un approfondimento quando un giorno lascerà questo giornale per che cosa vorrebbe essere ricordato per la correttezza per la correttezza per per la sincerità nell'affrontare tutti i problemi ma soprattutto la correttezza è la cosa che ti fa più piacere quando gli altri dicono che sei stato disponibile e corretto e sei soprattutto equilibrato noi pensiamo che la gente non si accorga di questo ma se fai un giornale equilibrato e non schierato la gente lo vede subito d'altronde io vi chiedo perché devi fare un giornale schierato quando la società è composta da persone che la pensano in maniera diversa lei fa questa professione da tempo secondo il suo punto di vista quanto e come è cambiato il giornalismo e perché ma guarda è cambiato in peggio perché l'avvento dei social network di internet le fake news che girano in rete abbassano la qualità dell'informazione se non stai attento e sei costretto a essere rapido spesso metti in circolo notizie non vere una volta si scarpitava di più si incontrava di più la gente quando sono arrivato ho detto ai colleghi non vi voglio vedere in redazione soprattutto i cronisti andate in giro parlate con la gente e portate a casa notizie e questo è l'unico modo che io conosco di fare questo mestiere e anche la gente deve vedere nel giornale un punto di riferimento per segnalare le cose che non vanno per denunciare una cosa che non va se non ha accesso al giornale se noi non svolgiamo questa funzione è un giornalismo poco interessante e ritengo che rispetto al passato non si siano fatti passavanti c'è un progresso sul piano tecnologico un progresso sulla rapidità nel fornire un'informazione e ci sono vari mezzi vari media che comunicano e questo può essere ritenuto un fatto anche positivo questa pluralità ma se ha il discapito della guarida non è positivo e questo purtroppo succede spesso dal gennaio 73 primo articolo al gennaio 2018 sono 45 anni quanto è cambiata l'Italia invece? l'Italia è cambiata sicuro chi dice che è sempre la stessa si sbaglia è cambiata non so se è meglio comunque è cambiata perché è un paese socialmente diverso rispetto al passato mi ricordo i primi anni 70 e anche la fine degli anni 60 fine anni 60 sembrava di essere il ben godi cioè un paese che c'era il boom economico che riguardava però non tutte le categorie ma una parte alcune fasce sociali nel 70 la grande crisi i grandi attentati prima di destra poi di sinistra nella brigata rossa insomma abbiamo vissuto dieci anni terribili dal 70 all'80 poi nell'80 c'è stata una piccola ripresa e poi siamo ricaduti di recente in una crisi spaventosa sul piano economico il paese deve recuperare credibilità la classe politica non è migliorata la classe dirigente è peggiorata la classe dirigente non è spesso all'altezza da bambino cosa sognava di fare? ingegnere non so perché infatti mi iscrissi al liceo scientifico poi sbagliando perché ero un asino in matematica e pensavo non so perché mi affascinava l'ingegnere perché costruiva perché faceva delle cose poi ho cambiato idea per mia fortuna quanto la sua professione ha arricchito e quanto in un certo senso ha impoverito magari nei rapporti la sua vita privata e quanto la sua vita privata l'aiuta nella sua professione ma guarda io mi sono ho sono separato una volta divorziato poi ho risposato una giornalista la mia prima moglie era un'insegnante elementare quindi era più facile essere capiti perché i nostri orari orari sono terribili nel senso che esci dal giornale tardissimo almeno quando ero ragazzo uscivo tardissimo anche quando ero capoledattore lo stesso perché ero in chiusura e quindi sono orari normali di gente normale arrivato a una certa ora uno si siede a tavola e mangia la sera e chi fa questo mestiere ha orari diversi per cui mangia la messa aziendale quando c'è un panino e via perché è un ciclo continuo non puoi interromperlo ma ti arricchisce sicuramente perché apprendi tantissime cose le trasmetti anche alla famiglia quindi anche ai figli e ti arricchisce la famiglia i figli in particolare ma anche la moglie perché ti sostengono e ti capiscono col passare degli anni si abituano diciamo al tuo ciclo di vita è felice di ciò che ha e di ciò che è assolutamente sì non ho nulla da chiedere in più e sono stato fortunato ad avere quello che ho avuto nella vita sei mai trovato a dover fare qualcosa che non pensava di saper fare ma sai quando il mestiere più difficile è quello del padre e lo impari giorno dopo giorno il lavoro all'inizio sì avevi timore di non riuscire a fare quello che sognavi di fare ma poi col passare del tempo cresci impari tantissime cose la cosa importante è non credere di sapere tutto di metterti in testa che impari sempre da qualcuno impari ogni giorno non c'è un'età in cui puoi dire io so tutto non ho bisogno di niente di nessuno ma io credo in qualsiasi professione ancora di più in questa perché ci sono sempre situazioni nuove che devi affrontare e quindi devi anche sapere ascoltare gli altri chiudiamo con la domanda che dà il titolo al format cosa vuol dire da direttore di un giornale così radicato nel territorio essere un uomo in prima linea ma essere in prima linea significa aver coraggio di affrontare tutte le situazioni difficili fare battaglie fino in fondo non mollare mai fino a quando non si ottiene un risultato se poi ti devi arrendere peccato pazienza ma vedi che non ci sono più strade per andare fino in fondo e questa è la nostra prima linea avere a che fare se fai un lavoro molto delicato dal quale può dipendere anche la vita delle persone dipende da come tratti un argomento da come affronti un argomento e quindi devi avere il rispetto massimo per la gente se non lo fai bene rischi di far del male a qualcuno quindi la prima linea è questa doppia una per affrontare le situazioni senza paura con grande determinazione e coraggio e la seconda è cercare di non danneggiare nessuno perché hai fatto male sei informato male perché hai fatto una cosa aggressiva perché non hai dato spazio a quello che invece lo spazio lo meritava per potersi difendere grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti